Seconda fase d'andata di Coppa Italia d'eccellenza nel segno di uno straripante Sansevero. La squadra di Bonetti si impone per 4-0 sul malcapitato Vieste. Le reti di Cruz, Doppietta, Consolazzo e Nicodemo mettono alle corde i garganici e fanno compiere Giallo Granata un passo decisivo verso la qualificazione. Posizioni favorevoli anche per Uggento e Martina. I Salentini vincono per 2-0 a maglie a segno Rodriguez e Galeandro. Medesimo risultato però a domicilio per i biancazzurri sugli Ostuni con i sigilli di Cannito e Delgado. Colpaccio del Ginosa sul campo del Città di Mola, Scatini e Sani rendono mano il momentaneo pari di Baba Diagnè. L'1 a 2 fa sorridere così gli uomini di Toni Pizzulli. Vincono di misura ed entrambe in casa Barletta e Sava. Pignataro firma il successo dei Biancorossi contro il Trinitapoli. La squadra di Passariello supera invece il Gallipoli per 2-1 con i gol di Procida e De Luca. Per i giallorossi il gol Speranza è ad opera di Sindaco. Pari infine tra Corato e Canosa. Neroverdi avanti con Cotello. Per gli ospiti pareggia Palmitessa. Sfide di ritorno in programma giovedì 21 ottobre.